Il premio Lombardia Ricerca è ormai entrato nel cuore pulsante dei Lombardi, soprattutto di quello straordinario mondo che accompagna, condivide e collabora sui temi della ricerca. L'emozione è anche molto forte per la ricerca che andremo a premiare, che è una ricerca che riguarda ovviamente una malattia che oggi sembra ancora invincibile, ma come diceva Veranesi, probabilmente arriveremo a sconfiggere il cancro. E questa ricerca straordinaria, che è figlia di due ricerche, è un grande passo in avanti rispetto al tema dell'immunoterapia e nella lotta ai tumori non solidi. È anche il grande giorno della collaborazione, non solo della collaborazione tra tutto quello che riguarda la ricerca a livello Lombardo, a livello italiano e a livello internazionale, ma anche la collaborazione rispetto al ricambio generazionale, perché andremo a premiare anche delle ricerche che sono state fatte dai ragazzi delle scuole, ricerche straordinarie, che fanno capire quanto il DNA Lombardo rispetto al tema dell'innovazione, della ricerca, è un DNA particolarmente florido. Io credo che il futuro della Lombardia si baserà molto su questo, sull'ambito della ricerca e dell'innovazione. Tra l'altro sono due ambiti che non possono essere copiati e che fortunatamente noi abbiamo nel nostro DNA. E quindi su questo dobbiamo investire, dobbiamo investire come Paese Italia, dobbiamo investire come Regione Lombardia, le risorse pubbliche sono importanti, devono avere due caratteristiche fondamentali. La prima ovviamente è quella di essere spese e la seconda ancora più importante è quella di essere spese bene, per delle ricerche che poi abbiano delle ricadute territoriali, in tema in questo caso delle scienze della vita ma nei vari ambiti che la ricerca può portare. E quindi questo penso sia un pezzo, un grande pezzo del futuro della Lombardia. Grazie a tutti.